Mi troverei più a mio agio a guardare il derby della Lanterna nella curva della Samp, se le posso dire sinceramente, perché sono genuano, quindi non credo. Il PPA anzi deve cominciare a guardare verso il gruppo nostro, il gruppo dei conservatori, perché in questi due anni abbiamo assistito a una cessione eccessiva rispetto alle richieste di verdi e delle sinistre su priorità green, in cui crediamo tutti, ma che stanno condizionando un po' troppo l'uso dei fondi per i prossimi anni. E quello che mi preoccupa è il gran numero di settori produttivi che rimarranno tagliati fuori e su cui il PPA deve insieme a noi fare un lavoro in questo senso, quindi noi dialoghiamo con loro ogni giorno, ma non è in discussione una fusione, anzi piuttosto lavorare insieme fra gruppo ID e gruppo dei conservatori per fare qualche sinergia in più con loro, quello sì, ma con il PPA la vedo difficile.